Leggisse un appuntamento importante con il dottor Fabio Potestà abbiamo iniziato questo cammino nel 2009 insieme non avendo prospettive di niente ma avendo tanta voglia di portare un punto di riferimento in questo paese in un centro fieristico di quello che era il sollevamento e il trasporto eccezionale. In modo che da queste giornate iniziasse a prendere voce e si potesse iniziare a conoscere approfonditamente l'importanza dei due settori nel mondo economico nazionale e devo dire il risultato ormai è evidente, il GIS queste giornate sono diventate le giornate veramente della bellezza di questo settore economico. Grazie Grazie